La teologia è un primum o un residuo. O è una prima forma di apprensione della sostanza, Hegel, o è la prima forma trascendentale della politica, Ops, o è l'ultima forma, astratta ma efficace. E quindi concreta della politica, Marx, l'ultima forma, lo Stato democratico, è la forma compiuta del cristianesimo. Lo Stato democratico ateo è la forma compiuta. Lo capisci, se ne capisci l'essenza teologico-politica. Poi devi andare oltre, devi capire che quell'essenza teologico-politica è a sua volta determinata da qualche cosa che sta fuori, cioè dall'economia politica che è dunque la vera dimensione su cui deve esercitarsi la critica. Dunque noi abbiamo teologia politica trascendentale e formale, Ops, teologia politica sostanziale e statuale, Hegel, teologia politica sostanziale e statuale, Marx, con segno rovesciato, sono tutte figure della mediazione. Tutte la teologia politica è la via attraverso la quale si scopre che la modernità è una mediazione. Poi abbiamo visto che in ciascuna delle forme in cui la teologia politica si presenta, in realtà c'è un elemento immediato, originario, che può essere detto o non detto, ma c'è. Quello di cui parliamo oggi, invece, è una trattazione della teologia politica come immediatezza. Anche qui l'elemento teologico è un resto. E' un residuo. Non solo è un residuo, ma è il residuo che ti fa capire tutto. E' un'origine che ti fa capire tutto. E questo è identico alle altre forme del pensiero politico moderno. Il punto è che qui l'elemento teologico è un residuo che ti fa capire tutto, in quanto è una, non si può dire una figura a questo punto, è una funzione o un malfunzionamento o uno sfondamento della forma. Mentre la teologia politica, fino a Nietzsche, è un discorso critico sull'origine della forma, è un discorso critico sull'origine della mediazione che dà origine alla forma politica, da Nietzsche in poi, teologia politica è un discorso critico sullo sfondamento originale, sull'origine come sfondamento della forma, con la conseguenza che o la forma è male e impossibile, male barra impossibile, oppure la forma è una coazione, la forma è una coazione, che ha in ogni caso dentro di sé una impossibilità originaria. quest'ultima posizione è quella di Schmitt. Che la teologia politica sia un primum che per essere compreso deve essere negato è invece la posizione di Nietzsche. Allora si dirà in che cosa si differenzia la posizione di Nietzsche dalla posizione di Marx, anche per Marx la teologia politica è un primum che per essere compreso deve essere negato. E la differenza è qual è la procedura della negazione? La procedura della negazione della teologia politica per Marx è la critica dell'economia politica, cioè, diciamo così, la teologia politica è una cattiva mediazione che può essere compresa soltanto attraverso la comprensione di una diversa mediazione, quella economica, che non è che sia buona, ma almeno è quella fondamentale e decisiva. Per cui, alla teologia politica si contrappone la critica dell'economia politica. In Nietzsche, invece, alla teologia politica si contrappone un giudizio che vede la teologia politica come una negazione, non una mediazione, ma come una mediazione. E questa mediazione è in sé una negazione alla quale negazione ci si contrappone non attraverso una altra mediazione, ma ci si contrappone con una affermazione immediata. È il dire sì. La teologia politica è la costruzione storica del dire no. Poi, adesso andiamo a vedere meglio, perché in realtà la teologia politica per Nietzsche non è il contrario della volontà di potenza. Dire sì è quella che lui chiama la volontà di potenza. La teologia politica non è il dire no alla volontà di potenza, è essa stessa una volontà di potenza con un difetto originario. È una volontà di potenza non coraggiosa. Cioè, appunto, è una volontà di potenza che manifesta se stessa, è la propria volontà di potenza, attraverso la costruzione della mediazione. Nietzsche non è così sciocco da pensare che la storia sia storia dei deboli, perché non si capisce perché i forti siano forti e poi non hanno fatto la storia. No, no. La storia è storia dei deboli esattamente come lo è per Hegel. Cioè, di deboli che in realtà... del servo, in realtà, per Hegel. che in realtà sono forti, fortissimi, solo che manifestano la propria forza attraverso la costruzione di un sistema di sicurezza, sostanzialmente. Ecco. Un sistema di sicurezza che è intrinsecamente angoscioso e insicuro. E che tuttavia vorrebbe essere un sistema di sicurezza a cui si risponde, alla cui intrinseca colpevolezza, si risponde con una affermazione di discolpa, anzi, di rinuncia alla dimensione di abiura, della dimensione stessa della colpa. Questo discorso Nietzsche lo ha fatto cominciandolo con la genealogia della morale. Ma in realtà dire morale, dire teologia politica è, dal punto di vista sistemico, per lui, la stessa cosa. Come ricorderete, nella genealogia della morale, cioè, la nascita della morale è l'idea, è una nascita che passa a bisogno dell'idea di colpa. C'è questa immagine, questa scena primordiale, una delle tante scene primordiali in cui i filosofi riassumono l'essenza della civiltà. No, pensate, la scena primordiale della caverna di Platone, la scena primordiale della uccisione del padre in Freud, la scena primordiale del conflitto servo-signore in Hegel, la scena primordiale della genealogia della politica è questa cerchia di aristocratici, figli del re, che temono il padre, lo uccidono, continuano a conservarne il timore, insegnano ai sottomessi il timore del padre, che è anche il loro timore, e insieme ai sottomessi, dunque sono forti per modo di dire, insieme ai sottomessi costruiscono un sistema di riparazione della colpa, che è la civiltà. E questo sistema di riparazione è intrinsecamente instabile, è votato alla ricerca della stabilità e della sicurezza ed è intrinsecamente instabile perché è animato non più dalla paura originaria del padre, ma dall'animazione angoscia per averlo ucciso. Per cui è il meccanismo sostanzialmente del double bind. Tu devi essere come me, cioè devi dimostrare che io sono inutile perché tu vali tanto quanto me e al tempo stesso tu non potrai mai essere come me. Cioè tu devi dimostrare costruendo la civiltà che non hai commesso un così grave peccato uccidendo il padre e al tempo stesso non ci riuscirai mai a liberarti dalla posizione di inferiorità verso il padre. La civiltà è un sistema di sicurezza rispetto a una colpa che non viene mai meno. Questa è l'origine della morale. Cioè la dimensione attraverso la quale si è giudicati, anzi, ci si autogiudica continuamente come inferiori rispetto all'obiettivo che si dovrebbe raggiungere. Non male come come intuizione, no? E la teologia politica è la stessa cosa. Cioè diciamo così, Nietzsche dice una cosa sola come tutti i grandi filosofi per tutta la durata della sua manifestazione di sanità mentale e di potenza intellettuale. C'è una cosa sola. Questa. E la dice nella sua prima opera importante Generologia della morale la dice nell'Anticristo che è l'ultima fra le ultimissime e Anticristo qui non ha nulla della risonanza mitica evocativa che è solitamente il termine A. Qui Anticristo vuol dire due cose sostanzialmente due cose primo il cristianesimo come si è evoluto storicamente è in realtà la negazione di Cristo e secondo io Nietzsche sono contro il cristianesimo storico. La figura di Cristo è accettata è accettata come figura debole come figura del morente è respinta come figura che diventa l'architrave della mediazione fra cielo e terra cioè diventa l'architrave che sorregge questo gigantesco raddoppiamento del mondo che è la storia dell'Occidente questo raddoppiamento che non è un raddoppiamento fatto a caso è un raddoppiamento generato dalla colpa prodotto dall'angoscia mobilitato dall'angoscia e orientato a ottenere una sicurezza impossibile ma attenzione è tuttavia la più potente forma della volontà di potenza non è che la volontà di potenza ha taciuto e aspetta Nietzsche per manifestarsi questo raddoppiamento è la volontà di potenza solo che è una volontà di potenza malata è una volontà di potenza che fondandosi sulla mediazione sul raddoppiamento ignorando ma comunque subendola l'angoscia ha in ogni caso per quanto sia stata potente ha costruito tutta la storia delle civiltà occidentali oggi poco dopo la metà del 1800 è davvero morente e si consegna passivamente al proprio esaurimento la decadence è davanti a questo che Nietzsche fa l'operazione genealogica reinterpreta la storia dell'occidente e contrappone la cattiva volontà di potenza ormai esauritasi alla buona volontà di potenza che è la sua che vuol dire essenzialmente fare a meno della mediazione fare questo grandioso esperimento mentale che consiste nella nell'immaginare un mondo privo di mediazione e dunque questa immaginazione di un mondo privo di mediazione implica la possibilità di pensare a un mondo privo di angoscia privo di colpa al di là del bene e del male appunto senza più il raddoppiamento per cui la immediatezza come dire priva di valore poiché il valore è un valutato uscire dalla dimensione del valore uscire dalla dimensione della valutazione uscire dalla dimensione del dar valore o dare disvalore che cosa voglia dire non si sa sostanzialmente non lo sapeva nemmeno lui perché è praticamente indicibile questa cosa perché vuol dire di fatto uscire dalla mediazione vuol dire uscire dal logos dire l'uscita dal logos è piuttosto complicato e tuttavia questo è l'incipit del novecento questo è proprio l'origine del novecento cioè dire l'indicibile formare l'informe affermare l'impossibilità di affermazione affermare l'impossibilità del discorso l'autocontradditorietà della cultura del novecento nelle arti figurative nella psicanalisi nella letteratura la distruzione di tutte le forme e la pretesa che questa distruzione ci dia qualche cosa di originario e allora qui abbiamo la teologia politica come il nemico come il nemico cioè come la pretesa di forma che non si confronta con l'impossibilità di forma anzi la pretesa di forma che esclude violentemente i portatori di informità o di infermità la infinita ricchezza della pagina nicciana si dimostra ovunque nella filosofia del ventesimo secolo è all'origine della del distacco del distacco fra le parole e le cose cioè proprio l'ultimo risultato del pensiero dialettico era che stavano insieme la soggettività e l'oggettività stava insieme la parola e il mondo in forma propria Hegel in forma rovesciata Marx ma anche la forma del rovesciamento marxiano non era l'obiettivo non era la liberazione dal logos era la liberazione dalla estraneazione al limite ma come limite concettuale ultimo la liberazione dalla politica intesa come apparato di dominio la trasformazione della politica in apparato amministrativo come se fossero due cose diverse ma insomma ma non era la liberazione dal logos Marx è l'ultima figura del razionalismo moderno non è un irrazionalista qui c'è l'inizio di quello che è stato definito a lungo l'irrazionalismo oggi lo possiamo definire la critica radicale della ragione la genealogia della ragione che si può fare soltanto se vedi nella costruzione della civiltà nient'altro che una religione sempre e comunque una religione pagana cristiana a questo punto non conta lo stato moderno è la stessa cosa che cosa vuol dire tutto ciò che la filosofia sostanzialmente sta criticando se stessa e infatti non c'è un filosofo che gli vada bene perché la filosofia è tutta mediazione tutta magari qualcosina con eraclito ma insomma dal povero eraclito si può tirare fuori qualunque cosa perché sono dei frammenti ma certamente dal primo apparato filosofico che occupa la scena dell'Occidente cioè da Platone in poi la filosofia è solo mediazione cioè è solo giustificazione e sistematizzazione costruzione dominio c'è poco da fare dominio dominio del mondo attraverso la ragione qui sono le fenomenali le fenomenali definizioni dei filosofi tedeschi date da Nietzsche proprio nell'anticristo Hegel un pastore luterano non si sbagliava Nietzsche e Kant il ragno funesto di Kenisberg dove la parola chiave ragno cioè uno che tesse una tela sopra un vuoto perché non lo vuol vedere o se lo vede lo vede come occasione di mediazione e invece Nietzsche dice no bisogna avere il coraggio di guardare il vuoto di valori che non è un vero vuoto cioè nichilista sarete voi io guardo il vuoto di valori e dentro quel vuoto ci vedo il pieno ecco di che cosa di quello che voi chiamate sostanza che se lo chiamate come sostanza finisce subito il gioco prima ancora di cominciare chiamiamolo con un'altra parola la vita cioè qualche cosa che non è destinato come la sostanza a essere concepito cioè la sostanza quando il filosofo dice sostanza dice qualche cosa che è destinato a essere la materia del ragionamento cioè a essere trasformato in concetto ecco se uno invece dice vita dice qualche cosa di esistente mobile ma sostanzialmente inafferrabile dalla ragione poi ricordate sempre che Begriff in tedesco vuol dire afferrare viene da Begriff afferrare per cui loro ce l'hanno proprio l'idea che il concetto è una presa sul mondo una presa trasformativa ecco per cui nichilista sei tu che stai con la tua filosofia da sempre e per sempre hai distrutto il mondo perché hai fatto del mondo un oggetto una sostanza oggetto destinata a diventare concetto perché sei debole e vuoi essere forte perché sei in colpa e ti vuoi difendere dalla colpa io che filosofo con il martello e distruggo l'idea stessa della filosofia io sono tutt'altro che nichilista sono nichilista per te perché ti distruggo il tuo giocattolo che peraltro ha già finito ha già smesso di funzionare ma io riscopro non la sostanza io do spazio ecco do spazio alla vita tra l'altro in Nietzsche appare potentissima la dimensione dello spazio rispetto alla nullificazione della dimensione del tempo il tempo non c'è il tempo che era il vettore della giustificazione l'avete visto ieri Hegel al quale non sfugge niente gli sfugge si fa per dire l'idea che oggi è meglio di ieri ecco a ciò Nietzsche risponde con quella teoria stravagante dell'eterno ritorno dell'identico e non si sa che cosa voglia dire vuol dire semplicemente che bisogna riuscire a pensare senza pensare il tempo senza affidarsi alla all'idea che il tempo sia la medicina che cura la ferita originaria perché la vera filosofia la sua è la filosofia che dice che non c'è alcuna ferita originaria da curare immaginarsi la ferita originaria è una manifestazione di una debole volontà di potenza una vera volontà di potenza si limita a dire non c'è alcuna ferita la vita è bella neanche buona che già un giudizio la vita è la vita e la parola non ha alcuna connessione con la cosa la sconnessione di principio fra il logos e il reale la puoi adoperare se ti va puoi non adoperarla e affidarti esclusivamente al mutismo immediato dell'impressione e del sentimento pensate le arti figurativi del novecento ma che vogliono esprimere l'inconscio la puoi adoperare in modo completamente arbitrario come è giusto che sia puoi farne uno strumento di potenza ma certamente almeno affrancato da ogni colpa te ne servi non sei il servitore della parola non sei il servitore di una presunta spiritualità del reale che se ne sta in cielo poi attraverso un qualche pilastro una qualche mediazione viene trasmessa a questa terra e questo cielo e questa trasmissione e questa terra messa insieme sono il logos che il filosofo rivela no se proprio ti vuoi servire della parola te ne servi al di là di ogni mediazione anche la parola sia immediata non a caso non ha mai scritto un libro ha scritto soltanto dei bellissimi aforismi o anche quei pochi libri giovanili che ha scritto sono spezzati non c'è dimostrazione non c'è il procedere la processualità guardate la processualità è la parola chiave la costruzione è la parola chiave del razionalismo la processualità è la parola chiave del pensiero dialettico in Hegel Marx lo dice addirittura il comunismo è un processo allora e infatti Marx ha idee scarse e approssimative su come si faccia la rivoluzione alla fine alla fine delle fini deve essere una rivoluzione come dire già portata quasi a compimento dalla processualità con spintarella finale le rivoluzioni si fanno così con Nietzsche considerando la realtà qualche cosa che non ha alcuna forma in sé e quindi puoi fare di essa ciò che vuoi purché tu non pretenda che quello che fai sia definitivo che sia l'esito di chissà quale processo storico sia chissà quale verità che si incarna vi ho appena spiegato il dadaismo il novecento è tutto Nietzsche tutto che lo sappia o no la la ragione come mediazione è nasce come risarcimento della colpa ma è essa la colpa questa frase potrebbe dirla Nietzsche è una frase che potrebbe dirla adorno è la stessa cosa è ora che lo guardiamo questa imponente presenza di Nietzsche i francofortesi che si sarebbero tagliati le mani piuttosto che ammettere di essere nicciani perché alla loro altezza Nietzsche era ancora misinterpretato come reazionario nazistoide ma non c'è nulla di più nicciano della dialettica dell'illuminismo che comincia con una citazione nicciana nascosta la trionfale sventura è una citazione nicciana nascosta la terra integralmente rischiarata splendida in segna di trionfale sventura che è l'inizio della dialettica dell'illuminismo abbiamo tutti letto i francofortesi credendo di leggere Marx e stavamo tutti leggendo Nietzsche per forza per forza perché quello che non c'era quello di cui si sentiva la mancanza era la processualità cioè la certezza sostanzialmente allora la certezza quando è smentita troppe volte quando è smentita troppe volte produce l'idea che ci sia un errore originario nella dottrina quello che Adorno nella dialettica negativa chiama il grano apocrifo della teoria il grano apocrifo della teoria per teoria si intende il marxismo il grano apocrifo della teoria vuol dire l'errore originario l'errore originario è che il marxismo è razionalismo cioè pretende l'emancipazione dell'umanità attraverso lo strumento che è segnato che è nato per il dominio non per emancipare è nato per dominare per dominare gli altri per dominare se stessi la figura originaria l'ultima grande figura originaria della filosofia occidentale qual è? Odisseo Odisseo ma non l'Odisseo che vaga libero nel Mediterraneo no no Odisseo legato da se stesso all'albero quella è la grande figura cioè il logos è un legame che ci siamo imposti per per essere potenti per essere in questo caso capaci di qualche cosa di cui nessun altro è capace cioè di udire il canto delle sirene questa potenza il logos è potenza da potenza a Odisseo gli consente di udire qualche cosa di meraviglioso a che patto beh a patto che questa cosa meravigliosa non venga mai fatta cioè Odisseo si fa legare non vuole fuggire dalla nave e obbedire alle sirene e a patto che sotto coperta gli operai con la cera nelle orecchie remino ecco il logos è questa cosa qui Nietzsche avrebbe detto non avrebbe detto togli la cera dalle orecchie dei rematori perché se la devono togliere da soli avrebbe detto slegati cioè rinuncia alla tua rinuncia uno non può scrivere il brano il capitolo su Odisseo della dialettica dell'illuminismo senza essere nicciano dentro l'anima poi si potrà dire che Nietzsche era un sordido reazionario cosa assolutamente irrilevante sotto il profilo biografico ma la valenza del suo pensiero è violentemente rivoluzionaria certo basta che ci si metta in testa che la rivoluzione non è la verità anzi basta che ci si metta in testa che non c'è la verità perché la vita non è né vera né falsa semplicemente c'è non è razionale non è morale c'è una provocazione grandiosissima nei confronti della filosofia che naturalmente sulla base del principio che vi dicevo ieri del filosofo che mangia il filosofo trovò in Heidegger colui che l'accetta e la supera quando Heidegger in un corpo a corpo durissimo con Nietzsche dalla seconda metà degli anni 30 fino alla seconda metà degli anni 40 e oltre vuol capire la sfida nietziana e alla fine la capisce e dice Nietzsche è come tutti gli altri ed è peggio degli altri perché è come tutti gli altri perché capisce che la verità della filosofia occidentale è la volontà di potenza che in lui Nietzsche si manifesta nella sua forma pura priva di tutto l'armamentario metafisico precedente per cui è viva Nietzsche ma quello che lui non capisce e che modestamente capisco solo io è che la volontà di potenza è essa stessa metafisica ecco non ha bisogno della metafisica si è servita della metafisica tradizionale si è servita del raddoppiamento del mondo si è servita della morale si è servita del cristianesimo si è servita del razionalismo si è servita della teologia politica insomma ma non è che se tu distruggi tutto ciò con il martello e ottieni come risultato che quella era volontà di potenza come dire nascosta implicita e tu invece affermi una volontà di potenza esplicita aperta hai cambiato qualche cosa hai portato a perfetta riconoscibilità l'essenza metafisica dell'occidente cioè che tutto quello che l'occidente ha fatto sempre a parte il santissimo eraclito di cui per fortuna non sappiamo niente ma da quando sappiamo qualche cosa cioè da platone in avanti ha sempre fatto una cosa soltanto cioè metafisica perché cioè ha sempre fatto volontà di potenza che si è che è la stessa cosa che la metafisica la quale volontà di potenza sopravvive alla fine della metafisica o meglio la fine della metafisica è la fine dei freni alla volontà di potenza dopotutto la morale ti diceva bene e male se tu distruggi la morale e dici fai un po' quel che ti pare non stai mettendo fine alla volontà di potenza la stai esaltando e se la esalti non sei fuori dalla metafisica sei dentro l'assunto originario della metafisica cioè che l'essere è qualche cosa che deve essere disvelato cioè l'occidente è il processo per il quale il soggetto si pone come di fronte a un oggetto chiama l'oggetto essere e conduce continuamente una lotta contro di esso per disvelarlo cioè per togliere le apparenze e arrivare finalmente alla sostanza prenderla e farne un concetto questa operazione la fai con la metafisica tradizionale la fai con il cristianesimo la fai con la modernità la fai con la filosofia in generale la fai con la distruzione nicciana della filosofia infatti nicci essendo un genio distrugge la filosofia rompe l'uovo e dentro ci trovi il tuorlo che è finalmente volontà di potenza dispiegata ma questa non è la fine questa è la fine dell'inizio io Heidegger vado oltre molto oltre vedo quello che nessuno ha mai visto vedo che tutto ciò si fonda su un unico principio errante che è è che l'essere è verità e verità è il venir meno del nascondimento a lezzia quando smetteremo di porci di fronte all'essere con la volontà di disvelarlo verremo fuori dagli infiniti guai che abbiamo creato noi ma un'ulteriore complicazione non si tratta di una decisione soggettiva smettiamo di pensare all'essere come alla verità che deve essere disvelata perché il fatto che l'essere nella storia dell'Occidente si presenti come ciò che è nascosto e che deve essere disvelato è un modo d'essere dell'essere non l'abbiamo deciso noi l'ha deciso l'essere per cui dobbiamo lasciare che si consumi questa vicenda dell'essere che è una vicenda del nascondimento e quindi e quindi stiamo zitti sostanzialmente infatti l'ultimo Nietzsche si inventa figure che non hanno più nulla di logico cioè il tentativo di parlare oltre la metafisica oltre il logos oltre l'ultima forma del logos che sono i numeri la tecno-scienza parlare oltre la verità naturalmente a questo punto fioriscono immagini fondamentale la Galassenite cioè l'idea dell'abbandonarsi e la Lichtung che è proprio costruita contro l'aufklärung è il contrario l'aufklärung è gettare un fascio di luce investigante cioè è tutta metafisica cioè è tutta volontà di potenza la Lichtung la radura è l'accogliere l'apertura dell'essere naturalmente naturalmente a questo punto diventa diventa difficile seguire la filosofia nel momento della propria negazione questo è Heidegger sostanzialmente a partire dai Beitrag for philosophy cioè 37 38 Heidegger è proprio il negatore della filosofia fa filosofia con l'intenzione di dimostrare che la filosofia è qualche cosa che va negato però non è sufficiente negarlo soggettivamente va negato perché si deve aspettare e accettare il suo sprofondare nelle contraddizioni che ha generato una delle quali è la tecnica moderna il gigantismo l'americanismo e incidentalmente il movimento a cui egli stoltamente aderì cioè il nazismo questo dico come tentativo di andare oltre Nietzsche cioè di consumare l'ultima vendetta sull'ultimo filosofo che si stava vendicando di tutti gli altri filosofi l'anticristo è l'idea che è meglio il Cristo che muore che non il Cristo che si istituzionalizza come mediazione è meglio la debolezza che la finta la debolezza è meglio la debolezza vera della debolezza finta che diventa la forza della mediazione e che se si vuol capire qualche cosa di questo mondo bisogna capire che alla fine delle fine non c'è niente da capire questo e questo tra l'altro è il punto fondamentale dell'estetica contemporanea non c'è non c'è forma non c'è racconto non c'è narrazione non c'è niente da dire non c'è niente da capire c'è solo da volere che cosa se stessi voi capite tra l'altro come tutto ciò sia assolutamente irresponsabile perché nega il dovere di rispondere a qualcuno e come sia da una parte sfidante e dall'altra parte invece come sia pacificante perché insegna a ciascuno che quello che conta è essere se stessi e basta come diventa facilmente ideologia qui c'è il discorso che non c'è nulla di strutturale Marx diceva ti puoi puoi non credere a nulla anzi devi non credere a nulla la filosofia si dice sono i filosofi del sospetto non devi credere a nulla però devi credere all'economia politica e alle sue contraddizioni qui c'è scritto non devi credere a nulla che certo è liberatorio sì però appunto è l'idea che non c'è un'impresa collettiva che meriti il nome della verità non c'è la verità artificiale del Leviatano la verità storica di Hegel la verità rivoluzionaria di Marx l'impresa collettiva se vuoi la puoi fare la puoi chiamare Ertpolitik la politica mondiale Weltpolitik la politica mondiale è pura volontà di potenza la puoi fare puoi non farla non c'è una necessità o se vogliamo la necessità il destino è nient'altro che il contrario della storia il contrario dello sviluppo il contrario del progresso il destino è l'essere gettati nel mondo questo è il significato della critica di Nietzsche alla teologia politica critica che si manifesta sostanzialmente in tutta la sua opera e che nell'anticristo diventa non dico certa di sé perché lo era già prende il nome giusto ecco prende il nome di critica della teologia politica sulla base di una serie di ragionamenti il principale dei quali è come sapete Nietzsche non era antisemite anzi pensava che l'antisemitismo fosse una patologia psicosociale da birreria e non sapeva quanto era profetico in questo però c'è il tema degli ebrei perché gli ebrei sono stati portati dentro la civiltà occidentale attraverso il cristianesimo e anche qui la tesi di fondo è sì la religione prima e più potente è la religione ebraica ma attenzione il cristianesimo è la stessa cosa che era il discorso che faceva Marx ebrei e cristiani sono la stessa cosa quando arrivi al livello teologico politico capisci che quello che conta è il fatto che tanto nella filosofia implicita nel discorso biblico ebraico quanto in quella implicita ma esplicita nel discorso cristiano che fu ripreso e accomodato dentro il grande dualismo greco quello che conta è il raddoppiamento è lo spezzettamento dell'umanità in atomi da una parte e l'istituzione di un'autorità di mediazione rispetto al cielo dell'uguaglianza a questo punto la differenza fra ebrei e cristiani è solo una differenza di potenza l'ebraismo si rivolge a un popolo il cristianesimo si rivolge all'intera umanità vuole coinvolgere in quel meccanismo l'intera umanità questo è una discreta differenza rispetto a Hegel per il quale invece poi ha smesso ma nel testo giovanile sull'essenza del cristianesimo e il suo destino c'è un capitolo sull'essenza dell'ebraismo in cui questo è un testo direi del 99 addirittura o dell'ottocento forse prima forse del 97 un testo in cui si dice l'ebraismo è antimoderno sostanzialmente perché l'ebraismo è il rifiuto della mediazione mentre invece la modernità è la mediazione poi a quell'altezza Hegel non era nemmeno come dire un filo moderno perché della mediazione vedeva la contraddizione e la soluzione secondo lui stava dell'antico ma certamente l'ebraismo era una forma di mancata conciliazione col mondo mentre invece il cristianesimo era una conciliazione però era una conciliazione contraddittoria mentre invece la bella eticità aveva abitato la Grecia la questione dell'antisemitismo dentro la filosofia c'è perché è troppo è inutile negarlo molto spesso all'ebreo è stata data la caratteristica sono state conferite caratteristiche di estraneità rispetto al corso del mondo o alla contrario eccessivo assecondamento del corso del mondo questa seconda è quella di Heidegger la modernità è uno sradicamento costruito sopra un modello ebraico chi invece dice come il giovane Hegel l'ebraismo è la figura del non conciliato mette l'ebraismo come un residuo inerte della storia che procede verso una certa forma di conciliazione che è la modernità in realtà in realtà in realtà se andiamo a vedere ebraismo e cristianesimo hanno la medesima struttura che era appunto quello che diceva Marx nella questione ebraica e dopo tutto se uno l'andasse a leggere senza senza paraocchi quello che dice Heidegger che è apertamente antisemita perché era facile esserlo ma che ogni tanto si lascia scappare una affermazione molto più violenta anticristiana e quello che diceva lo stesso Nietzsche il quale dice semplicemente che per lui essere contro il cristianesimo è esattamente l'identica cosa che essere contro l'ebraismo quello che conta è la struttura del raddoppiamento per cui qui abbiamo la teologia politica come immediatezza perché è il gesto immediato con il quale fu costruita la mediazione storica cioè è il normale modo d'essere della civiltà occidentale l'immediato modo d'essere della civiltà occidentale il raddoppiamento la teologia politica adesso dopo cinque minuti di pausa ma solo cinque vediamo come la teologia politica sempre all'interno del pensiero negativo venga interpretata invece come qualche cosa dalla quale emerge non la normalità di una tradizione da rifiutare ma emerge la eccezione e sarà Schmidt e poi venian